Cari amanti del gossip, siete pronti per l'ultima esplosione di scandalo? Scoppia il caos nel Grande Fratello! Avete visto l'ultima puntata del Reality Show? Un frammento trasmesso ha scatenato una discussione furiosa sulla coppia formata da Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. È una situazione che ha mandato le onde d'urto in tutto il mondo dello spettacolo, e il pubblico è infissa su questa storia. Non possiamo lasciarla andare così facilmente. Ma aspettate, c'è di più. Persino Cesare Buonamici ha espresso delle perplessità sul loro atteggiamento sospetto. È chiaro che il pubblico non sta per tollerare un finale tranquillo. Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione hanno scatenato ancora più polemiche. Varrese sembra aver cambiato completamente atteggiamento, e le parole pronunciate hanno sollevato più domande che risposte. Ma le sorprese non finiscono qui. Giuseppe Garibaldi ha rivelato dettagli inediti che sconvolgono completamente la situazione. I fan sono scioccati e si chiedono se si tratti davvero di una recita professionale. C'è chi pensa che tutto sia parte di un piano premeditato per andare fino in fondo nel gioco. Il pubblico vuole trasparenza e sincerità. Non siete curiosi di sapere come si concluderà questa storia? Noi sì! Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi e teneteci aggiornati nei commenti. Cosa ne pensate di questa intricata vicenda? Chi è il vostro favorito in questa edizione del Grande Fratello? Prima di vedere come finisce questo incredibile scandalo, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere le prossime esplosioni di gossip. Premete quel pulsante iscriviti e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Grazie mille per averci seguito oggi. Ci vediamo presto con ulteriori scoop e pettegolezzi.